camperizzati nella nebbia vlog notturni adesso mi ha preso sto trim come quando vi facevo non lo so non vi ricordate adesso sono più pirla di allora adesso sono un pirla abituato a fare pirla rifornimento notturno oh e la nebbia che bellezza la venci pericolio perché qui se mi ruba via che la nebbia la nebbia e meno male che la mia gatta non soffre il mal d'auto sennò sai quante vomitate in camper le faccio sempre un casino di coccole però poverina a volte meno male perché lei fin da piccina l'abbiamo portata in giro col nonno la mia gatta non soffre il maldito la mia gatta non soffre il maldito 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 Grazie a tutti Buon appetito Aglio Tagliato Esattamente così Lungo Lenticchie indiane Quelle arancioni Olio di berchella vergine Un po' del mio insaporitore Vegetale Una scatola di ceci Un po' di sugo all'arrabbiata Un po' di curcuma Posso garantire Che mi dispiace mangiarla da quanto è buona Scusate per i miei tovaglioli Ma avevo quelli Voi non l'avete mai fatto Non ci credo Tutti fanno tutto Però se lo tengono per sé Perché c'è questa cosa Che bisogna essere fini Che bisogna essere A modo Ma a modo che cosa? Troppe balle E sono balle che ci vengono inculcate Te le spiega La persona che ti cura Tuo mare, tuo padre Mezza vita Mezza vita Il mondo animale Buono o cattivo Tana Cibo Carezza Giocare, correre A riprodurci Fino Noi non siamo la razza dominante Su questo pianeta No 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 Altrimenti non avremmo bisogno di questi Non avremmo bisogno di medicine Non avremmo bisogno di case Ci basterebbero delle tane Vedremo l'ossetto 80 anni 100 anni 1000 anni Non siamo la razza dominante Abbiamo bisogno di coprire la nostra pelle Per esempio Perché è sempre il giornale a febbraio C'è freddo C'è neve Hanno speso miliardi Per armamenti Avrebbero potuto spendere un po' meno Per gli armamenti E vedere di modificare Il DNA Per generazioni future Per non farli ammalare Per non farli prendere Non lo so io Le malattie più gravi Il tumore Avrebbero dovuto Arrivare Subito Quelle persone che hanno un incidente Che vanno in sedia a rotelle Avrebbero dovuto Trovare il modo Al volo E di mettere a passo Col pezzo di midollo Cioè Non sono arrivati Secondo me Hanno speso Tanti soldi Per certe cose E troppo pochi Per la medicina Buone queste cose Buone Veramente buone Per la medicina Per la medicina Di Dov'è che devi andare amici eh? Dov'è che devi andare amici? Grazie della visione e ci vediamo al prossimo video perché noi siamo italiani. Ciao ragazzi!